Ciao a tutti, se hai ancora l'ossessione per l'ex, temi che possa essere felice in un'altra relazione. Ecco cosa fare per riconquistare. Ci sono tantissime persone che quando vengono lasciate continuano, anche dopo tanto tempo, poi, questa è la cosa strana, essere ossessionate dall'ex, ad avere questo pensiero fisso e sviluppare tra l'altro la paura che questa persona possa essere felice in un'altra relazione, possa essere davvero felice in un'altra relazione. Allora si commettono degli errori, invece ci sono delle cose da fare, che adesso ti dirò, per eventualmente riconquistarlo, ma da fare delle cose per uscire sempre, comunque vincenti. Prima però iscriviti al canale attivando la campanella, così riceverai le notifiche dei nuovi video, metti un like se il video ti piace, ti è piaciuto, ti piacerà, condividilo con i tuoi amici e ovviamente se vuoi fare una piccola donazione al canale basta che vai sotto il video e clicchi sul tastino super grazie e fai una piccola donazione. Se invece vuoi abbonarti al canale, basta che vai nella home page, tastino abbonati, che sta vicino al tastino iscriviti e selezioni l'abbonamento che preferisci. e ovviamente ti ricordo anche di seguirmi su tutti i miei canali YouTube e su tutti i miei social. Allora, vediamo, vediamo, l'ossessione per l'ex. Allora, ci sono tante persone che quando vengono lasciate iniziano a sviluppare un'ossessione per l'ex. Come dicevo, cosa vuol dire ossessione? Che continuano a pensare a questa persona e continuano ad avere paura, la paura che possa trovare un'altra persona. Ora, questo stato, diciamo, a parte che si sta male, diciamo, non è piacevole, ma poi non ti permetterà di riconquistare. Perché? Per tutta una serie di motivi. In primis le profezie che si autoavverano. Noi quello che temiamo lo attraiamo. Per cui se tu temi che possa, temi come, diciamo, follemente che possa trovare un'altra persona ed essere felice con quest'altra persona, la troverai. Cioè il tuo atteggiamento farà sì che tu andrai a sperimentare, manifesterai una situazione di universo in cui capiterà questo. che ti piaccia o che non ti piaccia, le cose stanno in questi termini. E allora quello che devi fare è cercare di cambiare, di cambiare, di modificare il tuo atteggiamento. Perché se non cambi, se non modifichi il tuo atteggiamento, non otterrai nessun risultato. Allora, intanto teniamo presente questo, che sono i nostri pensieri. Noi dobbiamo diventare padroni dei nostri pensieri. Perché noi naturalmente siamo predisposti alla perdita, al lutto. L'essere umano, diciamo, che vive un abbandono dietro l'altro, no? Quando nasciamo è già un abbandono. Perché, come dire, abbandoniamo il grembo materno per finire in un mondo nuovo. Poi, che ne so, andare all'asilo la prima volta, un abbandono del nido familiare, andare a scuola con gli impegni che ti vengono dati, e devi fare i compiti, e devi fare le interrogazioni. Poi, che ne so, continuamente alla scuola, il lavoro, eccetera, eccetera, il cambio di lavoro, i licenziamenti, tutte cose che fanno vivere questa sorta di abbandono. Noi siamo predisposti a viverlo, ne viviamo tantissimi. Anche lutti, ovviamente, perdita di persone care, di amici. Quando è che noi entriamo in questa paranoia mentale? Quando continuiamo ad alimentare questi pensieri? In realtà, il fatto che l'ex se ne sia andato, il fatto che è diventato ex, probabilmente è dovuto proprio a questo, al fatto che tu temevi di perderlo, al fatto che tu eri ossessivo, o ossessivo, e adesso parlo come se fossi un ex maschile, ma vale anche per le donne, cioè per l'inverso, è esattamente la stessa cosa. È come se fosse, tra virgolette, una persona da tenere sotto controllo, e quindi eri sempre in questo stato di negatività, eri sempre in questo stato di ansia, di apprensione. Questa apprensione probabilmente ti ha fatto rendere geloso, ossessiva, te l'ha fatto inseguire, sempre sul filo di rasoio, e poi alimentavi i tuoi pensieri, e i pensieri generano comportamenti. E ovvio che se uno pensa in un certo modo, difficilmente poi si comporta nel modo opposto, no? Pensa te, se noi pensiamo che fuori di casa ci siano i cecchini che ci sparano, per fare un esempio, ma difficilmente usciremo di casa, per paura che ci sparino addosso, se pensiamo che, che ne so, che il mare sia forza sette, e quindi non dobbiamo andare a fare il bagno, difficilmente lo faremo, no? Quindi i nostri pensieri, inesorabilmente, nel bene e nel male, determinano le nostre azioni. Quindi questo è un dato di fatto, no? E allora lo stesso discorso vale con l'ex. Se tu pensi, se tu hai paura che l'ex ti possa tradire, ti comporterai in un certo modo. Se tu hai paura di, cioè, se l'ex, non ancora l'ex, questa relazione, poi lo farai diventare ex tu. Quindi tieni presente che nel 90% dei casi, quando una persona viene lasciata, non dico che è colpa sua, perché non si tratta di colpa, ma ha messo in atto dei comportamenti non attraenti, non coinvolgenti nei confronti dell'altra persona. Questo è un dato di fatto. E quindi, continuando ad alimentare di questi pensieri, diventerà un'ossessione, no? E poi, diciamo, diventerà talmente forte che tu creerai un vitello d'oro, perché teniamo presente che più noi dedichiamo energia a una persona, più ci innamoriamo. E quindi questa è un'altra regola, no? Quindi, se tu continui a pensare continuamente all'ex, è inevitabile che ti innamorerai sempre di più. E quindi le tue paure, che di non averlo, e quindi che lui sia felice con un'altra persona, diventeranno sempre più concrete. E quindi mettere in atto tutta una serie di strategie comportamentali, inconsce, analogiche, inconsapevoli, per cui lo allontanerai sempre di più. Anzi, è probabile che ti bloccherà, è probabile che non avrà più sapere di te, è probabile che ti vedrà come uno stalker, una stalker, una rompicoglioni, chiederai a uno, all'altro, agli amici. Per cui la prima cosa è cambiare il tuo pensiero. Il pensiero è determinante. Quindi impara a cambiare il pensiero. Noi possiamo controllare il nostro pensiero. Cioè, un pensiero può sorgere, ma noi non dobbiamo alimentarlo. È come dire, io posso, il fuoco si può accendere, ma se non gli butto la legna e se gli tolgo l'aria, si spegnerà. E per cui la legna e l'aria sono il pensiero, sono il nostro deliberato continuare ad alimentare il pensiero. Se mi viene da pensare all'ex, dirotto il mio pensiero da qualche altra parte. Cioè, ne prendo atto e poi lo dirotto verso un impegno, un impegno lavorativo, un impegno esco, faccio. Quindi, devi, quando l'ex se ne va, la prima cosa che devi fare, il tuo pensiero deve essere, mi devo ricostruire da solo, senza l'ex. Quindi, devo darmi l'obiettivo di creare una vita da solo. E quindi, concentra tutti i tuoi pensieri su come crearti delle abitudini per vivere da solo. E, guarda, in 20 giorni, e ce lo puoi fare, in 21 giorni, se tu per tre settimane ti concentri su questo, poi, datti un altro obiettivo. Il mio obiettivo deve essere conoscere altre persone e frequentare altre persone. Quindi, concentrati nei social, frequenta altri posti, datti l'opportunità di conoscere altre persone. E ogni volta che ti viene il pensiero dell'ex, lo dirotti da qualche altra parte e concretamente conosci altre persone. Ecco, basta fare queste due cose e poi, la terza cosa è veramente diventa la migliore versione di te stessa. Come posso diventare migliore? In quali ambiti posso migliorare? Il fatto che un ex ne sia andato puoi rafforzare le tue emozioni, puoi diventare più interessante, puoi fare qualcosa di nuovo, puoi rimetterti in forma fisicamente, puoi fare mille cose, ma dedica i tuoi pensieri a quello. Quindi, i tuoi pensieri devono essere direzionati sul lavoro, sul diventare una persona migliore, come diventare, diciamo, cosa fare, quali cose puoi fare e come conoscere e frequentare altre persone che siano in target con la tipologia in generale di persone che ti interessano, quindi quali ambiti frequentare, eccetera. Costruirti anche una pagina social nuova. Ecco, questo è dove vanno direzionati i tuoi pensieri. Quindi, quando verrà... E quindi, la sessione ti passerà in pochissimo tempo. Se poi vuoi fare una cosa più, diciamo, simbolica, alla Jodorowsky, seppellisci, pigli la foto del tuo ex, lo seppellisci, ti sei tolto fastidio. Ti fai dire una messa, un requiem dal prete, come se fosse morto, per dare simbolicamente l'idea al tuo inconscio che non ci sia più. A quel punto lì, quando tu avrai raggiunto questa condizione, vedrai che ti si apriranno mondi nuovi e ti si aprirà paradossalmente anche il mondo del tuo ex che ritorna, perché posso garantirti che il tuo ex percepirà analogicamente, energeticamente, il tuo distacco. E posso garantirti che cercherà di fare qualcosa. Questo è garantito. Cercherà di tornare, cercherà di capire. E allora lì si tratta poi solo di mettere dei vincoli, delle condizioni. Ho fatto tanti video su questo, su tutti i miei canali, ma questo è fondamentale. Sono le basi, le fondamenta per il recupero. E poi seguendo gli altri video capirai anche come andare oltre. Ma se non fai questo, costruirai una casa, il tetto, vorrai partire dal tetto. Queste sono le fondamenta. Quindi porta avanti questa cosa e vedrai che la tua vita cambierà molto, molto in meglio. Bene, per questo video è tutto. Mi raccomando, metti un like, condividi questo video con i tuoi amici, iscriviti al canale attivando la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video.